La lista Affare Comune applaude questo progetto di rottea da sud-est dell'assessore Antonella Fiume perché per la prima volta a Monopoli si dà seguito alle politiche giovani. Assolutamente sì, la volontà è stata quella di tutta l'amministrazione del sindaco di dare una delega specifica, un assessorato specifico all'assessore Fiume di politiche giovanili. L'assessore ha immediatamente attivato tutto quello che poteva essere utile per avviare un progetto del genere. Il progetto è nato in un tempo effettivamente da record. Se calcoliamo che l'insediamento è avvenuto a giugno, oggi lo sportello è già operativo. Siamo qui alle porte di quello che effettivamente lo sportello accoglie già la cittadinanza. Parliamo di giovani, è quindi un tema delicatissimo, fondamentale, perché parliamo del futuro della città. Siamo orgogliosi di occuparci di quello che è il primo problema dei giovani, che è un problema occupazionale. Questo sportello, formato da gente competente, avrà proprio il compito di indirizzare i giovani verso il lavoro. Si diceva che sono fondi comunali, quindi sì, c'è stata la presenza dell'assessore regionale, però è un po' come se è stato il padrino di questo progetto, ma in realtà è tutto merito del Comune. Assolutamente sì, questo progetto è stato avviato con dei fondi comunali. Il plauso è arrivato anche, oltre che dall'assessore regionale, anche dal dirigente delle politiche, la dottoressa Pellegrini. Quindi è la dimostrazione tangibile di quanto effettivamente questa amministrazione tutta sia vicina ai giovani e vicina alle politiche giovanili. Da investirci in prima persona, lo si dimostra anche dalla presenza di tanti amministratori il giorno dell'apertura dello sportello. C'erano parecchi consiglieri che hanno partecipato all'evento, quindi proprio una dimostrazione di una città che guarda i giovani.